Ha preso il via alla sedicesima edizione del Romics, la fiera internazionale del fumetto, dell'animazione e dei games. Un evento organizzato dalla fiera di Roma, che ospita la manifestazione nei suoi spazi, e dai Castelli Animati, festival internazionale del cinema di animazione. Quattro giorni di Kermess, con eventi, incontri e spettacoli rivolti agli amanti del mondo dei fumetti, dei videogames e cosplay, ma anche per tutti i curiosi di ogni età. Un'occasione anche per incontrare i grandi maestri internazionali del fumetto, che verranno premiati come ogni anno, con Romics d'oro, il prestigioso riconoscimento ai grandi artisti che hanno segnato e disegnato l'immaginario collettivo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS